Allora, di nuovo insieme abbiamo visto le partite di questa sera, sicuramente insomma nell'arco di questa giornata siamo rimasti stupiti dei pareggi ieri di Inter e Milan ma ovviamente il risultato sorprendente non può non essere il 3-0 del Napoli a Verona del quale abbiamo già discusso e a proposito del quale vi abbiamo già raccontato e letto le parole di Antonio Conte nel post partita. Tornando indietro alla giornata di ieri e qui Milan interisti e dobbiamo fare i conti con una Milano che ha zoppicato un po' anche se credo siano più arrabbiati i tifosi del Milan per il 2-2 col Torino di quanto non lo siano i tifosi dell'Inter per il 2-2 del Genoa, no? Cioè a parità di risultato sono situazioni diverse. Arrabbiati quelli dell'Inter? No, io no. Sicuramente non contenti. Un po' dispiaciuti perché portavi a portarla a casa? Perché non hai fatto i tre punti, però se andiamo a vedere la prestazione l'Inter ha giocato una buona gara, due episodi, secondo me il primo gol colpa del portiere e Bissek che si addormenta anche sulla traversa e poi quel rigore lì al 95esimo ci vuole un po' più di accortezza perché non si può arrivare a fare una cosa del genere. Sì, diciamo due episodi. Due episodi, però alla fine l'Inter ha giocato una buona gara, quando spinge sull'acceleratore una buona squadra è vero che anche questo Genoa era rimaneggiato con un attaccante che gli mancava e un centrocampista che è andato via, molto forte per loro. Però nel complesso si può sbagliare una partita, però credo che l'Inter ha i mezzi e la forza di andare avanti tranquillamente. Invece per il Milan la cosa secondo me è diversa perché tu giochi a San Siro dopo che l'Inter pareggia una partita del genere, giochi davanti al tuo pubblico, davanti a 80.000 spettatori e fai 2-2. Pronti via ti trovi sotto di due gol. Con una formazione che non si capisce anche lì, il terzino sinistro, come mai ha giocato Salemecher, a destra, poi è tornato indietro. Quindi è lì una situazione che c'è da capire. Il migliore in campo è Mignan. Mignan ha fatto due parate, sul 1-0 ragazzi ha fatto due parate, una di piede sulla linea e un tiro sul velo di zapata incredibile. E poi dopo il Milan, negli ultimi minuti, è sempre... Però hai fatto un po' un'analisi un po' da tifosa a Tintenerazzo. No, no, no. Cioè il pareggio dell'Inter, tutto a posto, quello del Milan no. Ma no, Paolo. Quello dell'Inter ha giocato la gara, voglio dire. L'Inter è importante questa cosa che stai dicendo. No, tu. No, perché voglio dire... Da una squadra che non prende mai gol, subirne due da un Genova che perde Gus Bussonet. Sì, no, no, è vero. Però sono due episodi, Franci. Due episodi, però hai trovato. Hai trovato il portiere. Aveva l'anno scorso. Non in condizione. Errori difensivi. Il miglior giocatore del precampionato dietro, Bissek, che ha fatto due errori. Lautaro, ieri, poca roba. Lautaro, se non ti tiene in piedi tu i ram. Barella, poca roba. La Lautaro, lui, non doveva giocare. No, poi i cambi, posso dire che i cambi. Ma voglio dire. C'è la Noglui Mkhitaryan fuori, l'Inter cambia subito faccia. A parte Frattesi, che secondo me è un fenomeno. E non si sa perché bene non... Però, ragazzi... Perché deve fare un quarto d'ora. E a posto di chi gioca Frattesi? No, ma su Ventra non devi aspettare un'ora. Diventerà un problema con la stagione questo, perché Frattesi può giocare quest'anno. Forse però Inzaghi magari lo spera, ma non penso che possa avere la pretesa che Mkhitaryan ripeta all'età, cioè da over 30, il campionato del scorso anno dove non ha sbagliato una partita. Anche Zelischi ha preso. E forse quindi, cioè Zelischi, forse anche il caso, secondo me, di non spompare troppo Mkhitaryan e di alternarli i giocatori. Però guarda che anche il pareggio dell'Inter non è stata una gran cosa. Va bene, ma per il risultato, Paolo, io non ho visto questa Inter... Ma non ha risultato, anche... Ma non ha faticato, dai Paolo, sono due episodi. Ma non è che dovesse faticare, però comunque giochi con il Genoa, che ha perso i due giocatori forse migliori. Ieri sera eravamo qua tutti e due. La formazione in attacco, vedi, Lautaro-Turan. Sì, Messias e Vitigna. E Vitigna, se avevi un euro dove lo mettevi. sull'Inter, è vero. Però voglio dire, Lautaro è rientrato settimana scorsa. Secondo me c'ha due o tre allenamenti. E allora, vabbè, però ha giocato lui. No, io non l'avrei fatto giocare. No, io non l'avrei fatto giocare. Comunque alla fine del primo tempo usciva, secondo me. E piuttosto faccio giocare i due che abbiamo lì, o Correa o quell'altro. Tanto alla meglio qualcosa in più avrebbero fatto ieri. L'Inter ha tenuto il possesso del campo meglio rispetto alla partita del Minas. A Milano in casa col Torino, verissimo. Però non noti che i cambi fatti... Cioè, ieri quando Inzaghi mette mano, fa dei casini. Punto numero uno, Pavard. Dov'è? Sì, sì. Perché Bissek deve giocare e fare un disastro primo gol. Perché ha fatto un buon pre-campionato. Sì, però vedi... Ha fatto un buon pre-campionato. Se un allenatore dell'Inter, di quel livello, non sa che il pre-campionato è come vale meno che zero... La stessa cosa che ha fatto il Milan con teornati. Tu hai Pavard, un campione del mondo, un giocatore totale, è importantissimo e lo metti in panchina col Genoa. Alla prima che era presa scomoda, non lo fai mai. Perché questo ti fa, sul primo gol ti perde l'uomo. Sul secondo fa un rigore che facciamo perdere. Quest'anno il VAR funziona. Adesso sai cosa... Cioè, subentra questa cosa qua, che se ti alleni male o sei indietro di preparazione, non parti titolare. Cioè, guarda ieri Teo Hernandez. Teo Hernandez non deve giocare. Ti ricordi Mourinho quando Sneijder arrivò? Allenamenti zero? Sì, subito. Subito. Cioè, con Certo, se uno è forte, gioca. Ma io quello che poi non capisco... Zaghi cosa fa? Centellina su Pavard? E che addirittura... Cioè, c'erano obbi militari, eh? No, certo. Insieme? Sono troppi. Però, per esempio, Lautaro l'ha messo dentro. Sì. Perché non puoi asserlo fuori. Sì, ma Lautaro, invece di tirarlo fuori, l'ha messo in un 3-4-3 a modi trequartista. Sì, sì, perché a un certo punto aveva Lautaro, Turam e Taremi. Ci dici, perché Lautaro non si sa mai. Ma se non riesce da attaccante, dove è un fenomeno, secondo me, cosa lo metti il trequartista a fare? Magari fa la giocata giusta per le due punte. Perché c'è il colpo, c'è il colpo di gioco. Per Taremi... Quindi poteva essere una cosa utile. L'ha vista così, poi sai, sono momenti... E' uno che è già tornato con due giorni di anticipo. Sì. Chapeau, perché... Per la questione Taremi. E poi era riducendo... Quante partite ha giocato nel 2023? Quasi un'altra cosa. Il tema è... L'Inter l'ho vista un po' in confusione, nonostante il dominio tattico e tecnico, perché è vero che poi alla fine salvano solo la linea su Di Marco, il portiere fa due o tre parate in più. Cioè, l'Inter comunque ha proposto qualcosa in più del Milan, nettamente, anche direi. Poi è ovvio che gli episodi sono importanti, però è il cao di concentrazione che non si era visto l'anno scorso. se non in alcune partite quando il campionato era già vinto, tipo il Verona. Ma anche nel precampionato questo si è visto, eh? Sì, però precampionato può succedere, chi se ne frega. Non lo so, però... Il Milan è un'altra partita, è un'altra cosa. Sì, sì, un altro tema, secondo me, da vedere, ovviamente non lo puoi dire ieri, è se la presenza di Martinez, vicino a Sommer, toglie tranquillità al portiere. E questa l'abbiamo tirata fuori ieri in trasmissione e il sospetto un po' c'è... Non vi ho sentiti, però, a me. Un po' c'è... Non l'abbiamo buttata lì. È vero, è vero. Perché... Al di là della palla era sul gol, due sbarioni con i piedi, due ha fatto una roba... Ha giocato due palle. Però c'è un difetto che ha Sommer, uno solo, sulle palle alte. L'ha sempre avuto, eh? Anche perché è bassa. Anche perché è bassa. L'ha sempre avuto. Lì va un po' in bambola, e poi lo aiutano. Però su primo gol fa una mutazione grave, eh? Ma ieri, come diceva giustamente Thomas, non è che... La butti fuori. La fai così, e la palla esce. Ma se ci arrivi... Ma scusami, ma poi non vai... Lui stava andando indietro in quel momento. Franci, non vai dentro la porta che sai che poi c'è la traversa e la mano dove la metti più. Tu hai visto in quel momento come va a prendere il pallone? Esatto. Correndo indietro male, perché è in ritardo. Li tocca sulla traversa e lui è dentro e non riesce più a colpirla. Hai capito? E poi anche Bissek li sbaglia perché arriva il difensore Vogliacco che la butta dentro e Bissek dorme lì. Sbagliato due volte. Eh, due volte. Vogliacco è a Juve. Detto che però, a livello di prestazione quella del Milan è stata persino peggio. Sì. Molto peggio. Molto peggio con un Leao che è riverente e irritante ma ormai non lo sopporta per nessuno. Però ha sbagliato due volte amorosi. In certi ambienti sembra che Leao sia intoccabile. Invece secondo me va criticato proprio alla luce di quanto vale come clausola, di quanto guadagna e quindi da un giocatore così devi pretendere tanto. Ciongolante come pochi. E poi mi sembra anche abbastanza detto che se Leao fa il gol che doveva fare nel primo tempo probabilmente la partigia prende una miglia diversa. Secondo fa fare una figura pazzesca a Minkovic Savic ma il secondo non lo devi mai sbagliare. No, ma poi Minkovic ci sbaglia da un metro e mezzo all'appoggio e uno sbagliare e l'altro. Forse il primo va indietro e perde l'appoggio quindi per assurdo ci può stare che sbaglia a colpire ma il secondo non lo può mai fare lui. C'è fatto caso che quando lui arriva davanti alla porta si inarca sul pilopallo non tira mai cerca sempre l'anguato basso non ha un gran calcio lui non ha un gran calcio gira col piatto e cerca di piazzare la palla. Ma il mio terrore è che Fonseca che era partito molto umide molto attento ieri è impazzito ieri è impazzito è impazzito perché metti Saleme che è a sinistra poi a destra e poi lo porti a destra poi lo fa giocare basso a destra no prima basso a sinistra alto a destra basso a destra bravo poi quando tu lo metti a sinistra dalla parte di Bellanova c'è un giocatore che come quinto ti ammazza esatto hai Salemeckers lì e davanti a Salemeckers hai Leao che è uno che non ti aiuta e quindi metti Salemeckers nella condizione di soffrire ma non torna Salemeckers sta lì ma poi io un'altra cosa che mi ha fatto in bestialiere allora ti stai preparando per entrare in campo e vedi che l'Inter prende un gol al 95esimo pazzesco eccetera hai perso sei derby di fila stramaledetta quella voleva stare sopra i classifiche no aspetta no ce n'era uno che lì non so si impazziva ieri qua sei derby di fila hai la possibilità sei arrivato secondo a 19 punti cioè perché qui il problema qui a Milano il problema che l'Inter il problema dell'Inter è la Juve ma il problema del Milan è l'Inter questo si è capito stiamo parlando di calcio perché i problemi sono altri ora siamo d'accordo entra in campo e dici tu dici che il Milan adesso poteva essere in testa alla classifica più due con due punti tu dici ma sei verso veramente male più che altro che alla quinta alla quinta meno male che alla fine ce l'hai dichiarato è importante essere consci dei propri punti come ti capisco ma sei derby di fila di 125 anni sai quanti sono 125 anni è una vita però Furio io non voglio fare il derby alla quinta avevi due punti in più a lui interessava solo vivere la prossima settimana con l'idea di avere due punti in più perché nessuno ti rompe le scato Furio non voglio buttarti nella tua depressione ancora di più però non è normale che il Milan negli ultimi 20 anni vinca due scudetti ho capito ma sai ci sono non sono gli insegneri fra Inter e Milano ragazzi vent'anni sono vent'anni è cambiato la proprietà è cambiato tanto ma il problema è che poi sono vent'anni ragazzi era il Madrid due anni li mandano via all'allenatore il Milan non mi pare che sia una squadra da meno forse lo è da meno perché è la seconda a avere sette Champions in fila rispetto alle altre non puoi vincere due scudetti in vent'anni mentre la Juventus fra alti e bassi ha tenuto la stessa qui è arrivato di tutto fra Inter e Milano però se fai i calcoli negli ultimi 20 anni l'Inter vi ha superato i scudetti in un modo o nell'altro l'ha fatto non è solo che sono i derby si è rovesciata la situazione io non voglio deprimerti perché sono l'ultimo che esalta l'Inter mi dico rispetto rispetto invece sulla giornata di ieri credo che molto ci abbia messo anche Fonseca del suo nella scelta di formazioni se c'è una lezione che abbiamo imparato voglio dire noi seguiamo il calcio il Milan i gol li fa li ha sempre fatti li ha fatti 99 nella scorsa stagione la cosa fondamentale era non prendere gol non penso ci volesse Einstein per capire sta cosa e tu comunque schieri una formazione con Lottov Cig mediano che mediano non è Salma Kers terzino che terzino non è Leao Ciuqueze Pulisic e Jomic ma infatti un altro tema secondo me è che Fonseca ha in testa Pulisic trequartista e non esterno ma lo scorso anno Pulisic ha fatto le cose migliori da esterno e quindi è chiaro che secondo me dovrà fare una scelta perché Ciuqueze Pulisic la punta e Leao è troppa roba alla prima di campionato non era il caso di essere un pelino più prudenti il Toro ha fatto una partita onesta tranquilla si è messa in campo a fare cose semplici e ha preso di infilata sistematicamente il miso un minuto e venti secondi c'era il Toro era talmente chiuso che Mignon era a metà campo a prendere il pallone dopo un minuto e venti secondi dall'inizio della partita un dato tattico Furio Pulisic l'anno scorso a destra fa la fascia non solo fa 15 reti o 16 ma fa la fascia fino in difesa tutto l'anno perché Leao di l'anno non lo fa se tu sposti Pulisic a trequartista e metti Ciuqueze che è la stessa roba di Leao che va solo in avanti l'equilibrio difensivo lo perdi ancora di più quindi o risolvi con Fofanà allora puoi far giocare Pulisic a trequartista se no Pulisic devi tenere lì e mettere di là un altro che fa lo stesso lavoro sai chi lo fa? Moratta però Moratta no poi un'altra cosa un'altra cosa che ha fatto giocare Ciaul ha fatto giocare Ciaul altra scelta discutibile Gabbia aveva fatto bene certo c'è un bel modo di dire che ha preso 49 gol e tutti è stato uno dei migliori l'anno scorso anche nel nel precampionato Gabbia è bene l'anno scorso vero? Gabbia è stato da gennaio quando era entrato dal Villareale è stato il migliore centrale del Mille ma Ciuqueze sembrava l'eroe dei due mondi nella tournée esatto ma per questo ma per questo l'ha fatto giocare io non capisco c'è stato non dico dell'entusiasmo ma del vigore dopo questa benedetta dove Real Madrid era lì in vacanza in ciabatte il Barcellona mi sembra che sia una delle e poi anche il City Ciuqueze che è un ottimo punto offensivo del Milan uno dei più forti tra l'altro mi ricordo molto quadrato agli inizi deve imparare ancora a difendere però se metti anche lui lì il problema ce l'ha uguale cioè quando Allegri sposta Juve con 4-2-3-1 all'epoca che mette Mandzukic e quadrato esterni e Dybala dietro Iguain quelli due lì fanno tutto il campo Leao non lo fa al campo Ciuqueze non lo fa se tu tieni Pulisic e hai un problema in meno se no devi secondo me ripeto sacrificare uno che non ha voglia di giocare in sto momento che è Leao metti Morata a fare l'esterno che lo sa fare metti un'altra punta davanti e Pulisic dietro però ragazzi ieri poi quando è entrato Morata ha fatto i cambi il Milan è cambiato anche Manoli ha fatto i cambi con Torino se non ti cambiano Morata e Giupetano Caffore è forte Caffore è bravo Caffore l'ha messo lì a sinistra Caffore è bravo ha fatto più di Leao poi ragazzi ricordiamo sempre da parte di Calabria arrivano dei cross il primo gol traversone e sbaglia lui lì perché quando arriva il cross e poi Bellanova la picchia lì che becca al palo no gli arriva la palla dal cross su Calabria il cross non tiene quello che crossa quindi poi Bellanova in croce fa gol poi un'altra azione dove Magnan para coi piedi sempre per colpa sua noi parliamo tanto di Fofanac è giustissimo prendere ma Calabria è un problema che va risolto adesso c'è Emerson Royal ha messo in un concesso che poi come caratteristiche difensive ci sia Pavlovich il centrare Pavlovich però io dico la prima partita contro un toro io sento anche radio televisione che i tifosi non lo sopportano più né Cairo né nella campagna acquisti eccetera e ha meritato se fosse finita 2 a 0 avrebbe meritato assolutamente anche perché il migliore in campo è stato Mignon capisci mentre il peggio però Musa è entrata ha fatto bene è stato Sommere è un sabotatore però io continuo a non capire perché bisogna ostinarsi a giustificare per forza tranne te o tranne qualcun altro pochi non tantissimi le hao basta 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 hai fatto non puoi il 10 milan continuare ogni anno deve fare la differenza sei mesi di segnare tre mesi di segnare poi sbagliare è l'atteggiamento io ricordo che l'anno scorso c'era qualcuno qui in studio di fede milanista che quando criticava Ileao si irritava molto e ma lì dipendeva e invece va molto criticato un giocatore del genere va molto criticato d'accordo con te d'accordo intanto a proposito di notizie da Cagliari c'è qualcosa di De Rossi Alberto? sì ha appena parlato intanto complimenti per la prestazione di Sule a volte sbaglia qualcosa ma cercavamo un calciatore così mi è piaciuto e credo che migliorerà sempre di più e poi torna su Di Bala intanto fa un incipit particolare dicendo ne parlo adesso e non tornerò più su questa storia ma mi spaventerebbe una Roma senza Paolo la squadra numericamente è a posto se qualcuno andasse via ma riuscissimo a sostituirlo con giocatori funzionali e forti si andrà avanti con i giocatori che arriveranno però dice mi spaventerebbe una Roma senza Di Bala però due giorni fa aveva detto io non tengo non leggo nessuno cioè non dava dice la squadra viene prima ma qualcosa è cambiato ha dato il messaggio due giorni fa di quello che vuole Di Bala a tutti i costi oggi sì oggi fa capire quanto per lui sia prezioso e importante Di Bala due giorni fa mi sembrava non dico lo mettesse alla porta però dice vabbè se vuoi andare via vattene io non ti tengo perché in corso sperava di assegnare l'hanno anche attaccato mi sembra un po' un messaggio che va a correggere quello che ha incautamente detto un po' di giorni fa io non voglio anticipare la trasmissione però fra Di Bala e Chiesa avendo già Di Bala Chiesa non lo prende infatti il tema era se andava via se va via Di Bala il tema eventuale sì però ci sono molte perplessità alla Roma al di là di quello che può dare Chiesa anche perché Chiesa prende 5 milioni e ne vuole 7 ho capito Di Bala è vero che Di Bala prima ti seguivo è un po' complicata allora prendiamoci due minuti diamo la linea alla regia a rientro restiamo sul argomento Milan vi voglio far ascoltare un paio di passaggi della conferenza stampa di Vraimovic di ieri che per ragioni di tempo e di cronaca non abbiamo potuto analizzare perché naturalmente c'era Milan Torino in corso e quindi a margine nel contesto della conferenza stampa di Fofanà ha parlato Zlatan Ibraimovic che pronti via ha bacchettato in maniera abbastanza importante Fonseca mi faccio vedere anche una punta di freddezza nei confronti di Federico Chiesa l'avevamo notato già prima di Norimberga aveva fatto quell'intervista ed era stato abbastanza così l'aveva lasciato un po' scivolare è chiaro è chiaro che lui è giunto lì cioè lavorano all'unisono praticamente quindi uno ha sposato il progetto dell'altro mi piace Tiago Motta perché è molto chiaro diretto eppur la Juve essendo in ritardo su alcune operazioni a volte gioco forza Tiago Motta non ha fatto il conte della situazione cioè ha detto che va bene che stanno costruendo facendo una buona squadra anche perché arriva da da Spezia e Bologna però voglio dire però anche uno però anche uno volendo no quindi è anche un uomo verticale non è uno carriera calcistica è un lavoro importante però io mi faccio una domanda ma se dipendesse se fosse dipeso solo da Tiago Motta sarebbe rimasto Chiesa Chiesa non credo cioè non è un suo genatore è l'unica cosa guarda ti dico una cosa a me piace molto come parla sono sincero mi manca un po' la toscanità di Allegri perché mi faceva anche sorridere ma mi piace molto molto dritto molto diretto molto trasparente come dice lui mi piace molto di più lui che Giuntoli ad oggi ho questa sensazione Giuntoli non parla poco e però dovrebbe parlare po' di più volte perché alcuni argomenti non dovrebbe toccare l'allenatore però è la terza volta che lo tocca lui va bene è uno che a personalità lo sapevamo è giusto che lo faccia se la Juve ci sta ma quello è lo stile di Giuntoli anche a Napoli non parlava mai però se la Juve non sei più a Napoli però un upgrade devi farlo se vuoi andare a fare il dirigente di una grande società sportiva come la Juventus la più grande d'Italia su Chiesa non capisco perché con un allenatore che gioca così bene con gli esterni così in verticale così in modo moderno che tra l'altro io non ho ancora capito bene come gioca Tiacomotto perché il Bologna è una cosa che stanno ancora studiando i tattici oggi sono curiosissimo di vedere la preparità della Juve 4-3-3 lo scopriamo 4-3-3 o 4-2-3-1 sì ma non è la cartina sul campo che mi interessa mi interessa capire i movimenti cosa fa cosa crea anche perché ripeto ad oggi lui ha sottolineato giustamente stiamo costruendo una squadra competitiva vuol dire che al momento sa anche lui che non lo è ancora no vabbè lo dice lo dice tra le righe lo dice non è finito giustamente però questo sottolinea anche che se non arrivassero quei 2-3 che devono arrivare è un problema o può essere un problema detto ciò Chiesa allora se tu lo fai giocare hai solo modo per cercare di venderlo meglio o di cercare di ricuciare rapporti e rinnovare se tu non lo fai giocare rischi solo di tenerlo fuori di perderlo definitivamente di non guadagnarci niente quindi questa è una cosa che non capisco comunque a meno che scusami a meno che come mi è giunto all'orecchio da qualche parte a Torino qualcuno abbia capito che Chiesa abbia già un accordo con qualcuno per l'anno prossimo e la Juventus a questo punto l'ha messo con le spalle al muro dicendogli bene non hai rinnovato con noi hai già un accordo noi non ci stiamo a perderti a zero quindi o vai via adesso e ci porti 10-15-20 milioni da qualche parte oppure stai fuori tutto l'anno rischio tuo però ci perdono tutti e due così che sia la Juve che Chiesa perché aver Chiesa in più in panchina domani 6-0-0 con Comodo 82esimo in casa se hai Chiesa in panchina che magari dice cacchio adesso io ti entro ti faccio vedere che posso rimanere qua anche un anno soltanto poi magari a dicembre cambia le cose che hanno lì a disposizione perché virare una rosa intera perché questo nel senso è un po' in contraddizione invece con l'atteggiamento che hai avuto per esempio nei confronti di McKennie certo e Purato fuori rosa che non ha accettato questo elemento per Douglas Lewis e Costin e gli propone il rinnovo ma attenzione però lui aveva rifiutato di andare alla Stonevilla che valutava a McKennie 25 milioni sì per Douglas Lewis esatto poi hanno fatto una valutazione che comunque adesso il mercato per McKennie non dava più risposte importanti e alle cifre precedenti gli hanno proposto il rinnovo del contratto che devono decidere ancora se sarà solo di un anno o due chiesa non hanno ancora deciso lo vedranno in settimana chiesa aveva rifiutato nel corso della stagione un rinnovo lungo fra virgolette con una cifra non 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 alzata mantendo lo stesso oppure un rinnovo ponte ha rifiutato tutto cioè evidentemente poi non hanno una grandissima stima forse del giocatore trottino rapporto con l'ambiente dell'intelligenza in campo non del fatto che lui non sia fortissimo però se hai bisogno di un tatticismo particolare di uno che si sacrifichi che giochi in un altro modo chiese uno che va per le sue perché è un cavallo libero il classico giocatore che se sta bene a destrezza fa quello che vuole a Tiago Motta forse non serve però ripeto questa può essere una cosa controproducente alla lunga bisogna stare attenti perché Di Bala l'hai dato via perché non sta bene e quando sta bene vedi cosa fa chiesa non vorrei che fosse poi il classico rimpianto all'Henry degli anni 2000 che era considerato un terzino d'Ancelotti e che Moggi all'epoca disse non vede la porta però tieni presente succede di sbagliare sbagliano tutti per carità però tieni presente perché stiamo stravolgendo tutto Paolo è il primo anno di una rivoluzione totale che però non può essere veramente totale perché c'è la scura dei conti infatti da un lato giunto ricerca di rinforzare la squadra e dall'altro cerca di incassare e di abbassare il monte ingaggi fin qui numeri alla mano e secondo me questa è una cosa molto positiva la Juve ha risparmiato rispetto alla stagione scorsa 50 milioni lordi sugli ingaggi solo i 13 di scesni per capire oggi ha prestato rugani che sono 3 milioni lordi poi gli altri che sono andati via e ha venduto per 112 milioni ha pure comprato per però è chiaro venduto per i soldi della next gen la maggior parte anche è una roba importante perché non è assolutamente però è chiaro che se una proprietà ti metti paletti molto rigidi su quello che tu puoi investire è chiaro che tu sui giocatori ci vai se però poi ti dicono vacci ma prendi l'imprestito come con 6 sao e con 6 sao se non glielo danno in prestito e a oggi non glielo danno non lo possono prendere dare una curiosità tu che conosci Giuntoli che conosci benissimo il mercato Gagliani insegna Moggi insegna Marotta di oggi insegna che le trattative partono molto prima in questi giorni io vedo Coppenes che si sta praticamente legando ai cancelli di Bergamo per andare via non vedo Giuntoli cioè la trattativa tu inizi a offrire 45 a metà luglio più bonus adesso arriva 52 più 7 stai comunque rischiando ma ognuno fa il suo gioco senz'altro però domani col come non hai Tante squadre non sono fatte adesso e non è normale però il mercato è lungo e c'è domanda e c'è offerta però chiaramente è sempre un dirigente che non ha i cordoni della borsa allargatissimi e quindi prendi di qui metti di là fa fatica però era necessario cederlo e spendere 18 milioni per Di Gregorio lasciando una valutina di 4 sì perché Di Gregorio guadagna 1,7 più bonus e Cesni guadagnava 6 ho capito però prendi un portiere giovane giovane se quest'anno era necessario ora scesi nella miscadenza per i farebbe non dico il titolare no ma guarda che Di Gregorio è bravo voi sono fatte Di Gregorio Cesni ad oggi secondo me era di un livello superiore però stiamo dicendo che devi ridurre il Montingaggi sì ma alla fine hai speso 18 va bene che daranno prossimi il portiere di bagnano 1,8 va benissimo hai speso 18 ma ti presenti con Di Gregorio hai speso 18 ma quando inizia la stagione inizia l'ammortamento di questi 18 che poi sono meno meno come l'Inter che ha preso Martinez adesso pagare un secondo portiere 15 milioni ma l'anno prossimo è il primo forse a metà quest'anno forse bisognava spenderli anche in un'altra maniera Di Gregorio domani ti fa un partitone con Comodi stava la partita va benissimo Di Gregorio domani con una pappa ti fa perdere la partita va bene gli errori può fare anche Cesni però il discorso era necessario era strettamente necessario andare su Cesni e su Di Gregorio adesso se devi ridurre il Montingaggi di Tot uno sì ma un conto sono gli stipendi con il lordo un conto sono i cartellini dei giocatori ma io parlo di immediatezza che vanno sì ma vanno ma il pagamento non è in un anno e c'è l'ammortamento l'aspetto tecnico e l'aspetto economico sono giochi contabili sono giochi contabili è come quello che dice è ovvio che tra Cesni e Di Gregorio era un po' tecnicamente non c'è partita come quando si diceva su Le Di Bala però poi ci sono altre questioni economiche a parte che Tiago Motta forse paradossalmente preferisce Di Gregorio perché c'è con i piedi e Cesni no a parte tutto poi quei 18 e poi Cesni gioca in porta sì vabbè ma Di Gregorio è bravo quindi guardo prima il portiere più bravo tra i due ma per una questione di dire poi ha fatto di età ma guarda che per esempio come quelli che dicono ah han venduto su Le che poi 25 più 5 no 25 più 4 ci sta ci sta e diceva vai a spendere per un altro sì ma su Le è plus Valenza netta è plus Valenza tu li metti su un altro ma hai l'ammortamento i prezzi di cartelli ogni anno diminuiscono e intanto riduci il monte ingaggio di quelli che prendi ti saltano i Combenes e Niko Gonzales i Piani B quali sono? non saltano non saltano non saltano allora sicuramente ti dico no ti dico oggi lo scriviamo poi magari domani saltano sì sì però però noi viviamo in diretta per cui è più normale dire le cose guarda quando ci sono anche